Ciao a tutte ragazzi, oggi parleremo di capelli, un argomento che comunque soprattutto noi donne ci teniamo molto e in particolare voglio farvi vedere i prodotti che utilizzo io e che mi trovo bene quindi cominciamo, vi parlo intanto della linea oliva, non so se conoscete questi qua della bioteca italiana allora c'è lo shampoo che è questo qui con estratto di olivo bio che è da 250 ml ed è uno shampoo delicato per dare luminosità a tutti i tipi di capello contengono entrambi ingredienti di origine vegetale e sono arricchiti con estratto di olivo appunto e c'è appunto lo shampoo che è questo qui da 250 ml e poi il bassamo che è da 150 ml che appunto ha estratto di oliva ed estratto di olivo biologici e grazie a questa formula aiuta a rendere i capelli morbidi e luminosi e profumati e non appesantisce il capello molto semplice di usare è questo, dopo aver applicato appunto lo shampoo si applica sui capelli bagnati stendendolo per tutta la lunghezza e poi si pettina e si lascia agire per qualche minuto e si risciacqua con cura questi due della linea appunto bioteca italiana sono ottimi, sono shampoo e balsamo e poi ragazzi i capelli li vado sempre a spettinare con questa spazzola che si chiama Bing Bing che aiuta proprio a districare i capelli dopo lo shampoo quindi molto semplice da utilizzare, utilizzo sempre questa andiamo avanti adesso andiamo prima con lo shampoo uno shampoo con cui mi trovo bene è questo qui Avon, non so se l'avete mai provato è uno shampoo alla verbena questo qui ragazzi è da 700 ml quindi c'è veramente tantissimo prodotto ed è alla verbena e menta piperita che deterge delicatamente aiutando a rimuovere il grasso in eccesso ed è per capelli che si sentono rivitalizzati si massate sui capelli bagnati ovviamente come tutti i sciambi fin quando c'è la schiuma e si risciacqua e questo qui ragazzi è anche questo è ottimo il lavone, anche il profumo è buonissimo poi andiamo avanti come shampoo ragazzi io mi trovo benissimo con questo qui Iverrochè che appunto è l'azienda appunto per cui lavoro tutti i loro prodotti sono ottimi per chi li ha provati lo sa questo qui appunto è uno shampoo purezza purificante questo è da 300 ml ed è appunto per un cuoio capelluto sano e rende i capelli più belli e soprattutto puliti e questo c'è anche tutta la linea completa ovviamente balsamo, maschera, c'è tutto poi andiamo avanti questo qui, non so se l'avete provato dio mia è un fisio shampoo ecobiologico questo è da 250 ml ed è aloe vera ed è al 0% di silicone e parabeni questo qui e questo qui è un fisio shampoo idratante ed equilibrante per capelli secchi e cuoio capelluto delicato è un detergente per capelli a base di aloe ed appunto l'aloe vera dona i capelli idratazione e luminosità e si applica una piccola quantità sui capelli bagnati si massaggia e risciacqua e poi ovviamente se necessario ripetete l'operazione e poi si sciacqua questo qui non so se avete mai provato questa linea anche questa è ottima è da 250 ml e anche questa ragazze ha un profumo buonissimo proprio di aloe vera andiamo avanti è sempre accompagnato con lo shampoo c'è sempre di mia il balsamo sempre anticrespo aloe vera quindi c'è shampoo e balsamo e questo qui ragazze è appunto un condizionante risciacqua a base di gel e di aloe e consente inoltre l'olio di avocado e olio di riso naturali che idratano e rinforzano la struttura del capello e sono anche facili da pettinare l'uso è semplicissimo si applica una noce di prodotto sui capelli bagnati dopo lo shampoo e si lascia dire per qualche minuto e poi si risciacqua e questo qui è da 200 ml quindi anche questo shampoo e balsamo andiamo avanti poi abbiamo questo qui di Resti Boil è un olio shampoo per cute sensibile per lavaggi frequenti per capelli da normale assaggi ed è sebo normalizzante da 250 ml questo qui per lavaggi frequenti appunto poi non può mancare l'olio di cocco questo in particolare è della tropicana ed è da 200 ml e non unge non appesantisce e salda le doppie punte e previene la formazione ne previene la formazione è un ottimo protettivo solare che sostituisce gel e gommine per tutti i tipi di capelli ragazze ed è è appunto arricchito con inolizzato proteico che ristruttura le fibre cheratinitiche dei capelli e ridona splendore vitalità allora questo qui la modalità di impiego appunto è un look si applica sui capelli leggermente umidi o asciutti e si lascia asciugare naturalmente e mentre per le doppie punte dopo lo shampoo si tampona l'eccesso d'acqua e si applica sulle punte massaggiando e protettivo solare si applica durante l'esposizione raggi solare anche più volte al giorno quindi è un olio di cocco che appunto ha più funzioni anche questo ragazzi l'odore è molto buono ed è tropicane poi vado avanti questa qui questa ragazzi la provo la provo da circa qualche settimana è una maschera illumina color di viva professional con essato di midollo di bambù melisse e ginseng appunto dona volume destrica e valorizza ogni colorazione per capelli fragili naturali e colorati io la sto provando da un po' perché appunto avendo i capelli adesso colorati volevo provare una maschera per capelli colorati è appunto una maschera illumina colore si applica sui capelli lati si distribuisce monoriforme con un pettine e si lascia per 5-10 minuti devo dire che finora mi trovo bene e questa è da 500 ml quindi c'è tanto prodotto ed è fatta col coperchino ed è rosa poi ragazzi molto importante già ve ne ho parlato sempre di vero c'è l'anti pollution che è questo qui che ovvero è un ossigenante anti inquinamento per il cuoio capelluto è da fare una o due volte alla settimana molto semplice da usare quindi si massaggia e poi si risciacqua poi abbiamo lui di testa nera è un eye repair per le fibre è un olio riparatore spray che ha due formule uno ricostruisce la fibra capillare e due brillantezza questo qui che tra l'altro mi sta affinando ed è ottimo ragazze ha due fasi appunto uno è la formula riparatrice con fibre bonding o mega plex che ricostruisce i capelli dall'interno riparandone le fibre spezzate mangia il 2 olio di bellezza brillantezza ed elasticità questo è da 100 ml ottimo quindi questi sono i prodotti che più utilizzo sempre se avete qualche domanda mi scrivete e niente ragazze ci vediamo con il prossimo video fatemi sapere se voi usate anche uno di questi prodotti che vi ho fatto vedere come vi trovate voi ci vediamo con il prossimo video un prossimo video